Potrebbe essere l'ultima gara prima delle plurime partenze attese per i mancati pagamenti in Casa Azzurra. La squadra però, anche alla vigilia, ha promesso impegno fino al momento delle decisioni irrevocabili. Non ci sono Mugelli e Casolla, poiché squalificati. Torna però a Liboni, pezzati e in panchina. Squadra più giovane, persino del necessario. Panza con botta e risposta che, se non altro, riscalda gli spettatori. Negli ospiti, incursione di Carnevale con assist basso in mezzo. Piattone di Ghilardoni al rimorchio. Grosso si arrende per l'1-0 giallo-blu. Un minuto e stavolta il traversone magico è ad opera di Matrone per Morbidelli che si fa trovare sotto porta di testa supera Valoriani per un pareggio pressoché immediato. L'occasione per il sorpasso è clamorosa, altrettanto sesquipedalmente fallita. Punizione di Morbidelli, rimedia con respinta a frontare l'estremo ospite, irrompe Milicevic che spedisce però alta la sfera da pochi metri. Si fa pari anche con il numero di occasioni quando la percussione centrale, con qualche rimpallo favorevole, porta alla conclusione da fuori. Nuovamente Ghilardoni, pali non centrali. Dopo la prima sostituazione personale, il croato Milicevic ha quindi spazio e tempo per una mira migliore. Ancora Valoriani mette una pezza in corner. Il sorpasso riesce comunque in apertura di ripresa. Premiato l'attacco dello spazio da parte di Morbidelli di Camillucci, il numero 10 è tanto preciso quanto potente per il 2-1 azzurro. Da Mattonella simile con la Ragnanese poi aveva segnato Morbidelli da calcio piazzato, manda oltre la traversa la punizione che avrebbe significato tripletta e anche match point. Così accade da parte opposta che stavolta faccia difetto il movimento nell'offside per Cicino, che si presenta solo davanti a Grosso per un dribbling semplice sull'uscita del portiere. Palla in rete, nuovo pareggio 2-2. Attenzione al minuto 37. È Andrea Cravotta, collaboratore di linea, ad aver bisogno dell'intervento medico. Tutto a posto dopo pochi secondi, fortunatamente. L'intervento scomposto di Collacchioni, minuto 41 sull'ischi, costa quindi al centrocampista ospite il cartellino rosso diretto. Il finale dice 6 minuti addizionali. Corre l'ultimo inoltrato per il cussone di Caldore da sinistra. Ribattuto il primo cross sul secondo traversone. Spunta ancora sul primo palo la testa di Morbidelli. La rete è gonfiata. È il 3-2 finale. Una volta si sarebbe portato via il pallone. Adesso, con i tempi che corrono, non è forse comunque il caso. C'è però il regalo di una domenica da Leoni.